Ciao a tutti e bentornati in Tessiland News. Quando cercate un cordino Thai italiano ovviamente sapete che state cercando un cordino che richiami, che rimandi alla lavorazione thailandese ma che appunto venga fatto in Italia e sapete bene che quando cercate il migliore in commercio vi rivolgete a noi di Tessiland e cercate il sublime. Pensate se però esistesse un filato con la stessa identica qualità, la stessa composizione, spessore e la stessa garanzia di qualità però sfumato. Ebbene Tessiland oggi accontenterà anche questa richiesta con il Thai sublime sfumato. Analizziamolo nel dettaglio. E vediamolo allora questo splendore 100% made in Italy, il nostro nuovo arrivato Thai sublime sfumato. Si presenta così in rocche da 200 grammi per una lunghezza di circa 280 metri per il quale consigliamo l'utilizzo dell'uncinetto 3-4. Lo spessore è lo stesso del sublime in modo tale che possiate poi anche lavorarli bene insieme da non avere questa differenza eccessiva di dimensioni. Infatti anche esso ha uno spessore di 2 mm composto esattamente come il Thai sublime da poliestere e poliammide. Ha diverse sfumature di colore e quindi concentriamoci proprio su quelle. La variante che abbiamo visionato finora è la variante volga dove ci sono a tratti intervallati sfumature di verde e grigio perla. Questa invece è la variante don dove vi è un bel nero e un grigio molto scuro che potremmo definire antracite. Questa invece è la variante danubio dove ci sono le due sfumature di grigio più scuro e grigio perla. Questa invece è la variante indo dove ci sono le sfumature del rame e del tortora. Questa invece è la variante gange dove ci sono le tonalità del pesca e del giallo. questa invece è molto delicata e la variante tamigi dove c'è un delicato cipria accostato ad un altrettanto delicato grigio perla. Questa invece è la variante rio dove ci sono due tonalità diverse di blu, un blu decisamente scuro e uno che potremmo definire bluet. La variante invece che vediamo adesso è eufrate dove ci sono un bel sabbia accostato ad un delicato beige. Nel senna invece vediamo questo bel contrasto tra rosso e un grigio perla davvero molto molto delicato. E concludiamo invece con la variante nilo nel quale vediamo un caldo marrone accostato ad un bel tortora. Ben dieci varianti di colore che potrete tranquillamente mixare tra di loro magari ecco soprattutto le tonalità più chiare davvero vi consentiranno di realizzare delle borse molto originali ma allo stesso tempo anche molto sofisticate e ovviamente la possibilità di mixare il thai sublime sfumato con il thai sublime in tinta unita per partite e tonalità magari non saranno perfettamente uguali ma sicuramente è un bel mix che vi consentirà di divertirvi davvero. E poi si sa il thai sublime sfumato insomma come abbiamo già visto e come sono certa voi già sappiate perché avrete già avuto modo di provare il thai sublime è un filato che è davvero il massimo del comfort nella lavorazione di borse e accessori ma soprattutto parliamo di 100% made in italy qualità che davvero ci contraddistingue dal resto del mondo e che vi consentirà di conseguenza anche di fare la differenza nel momento in cui realizzerete le vostre creazioni. Un filato appunto fatto in italia per il quale possiamo garantire anche la continuità dei colori e quindi potrete tranquillamente avere la certezza di trovare sempre lo stesso colore. Ovviamente in partite diverse ma potrete tranquillamente realizzare la vostra creazione e anche avere di conseguenza anche delle commissioni in merito. Il sublime sfumato mi raccomando non perdete questa occasione. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale youtube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli le nostre novità e le nostre idee creative e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!